con la maglietta però ah ok gg se vuoi quittare l'isola che ho messo già box fight provino come c'è come funziona ti devo killare tot volte oppure vedi come gioco tot volte dimmi quante volte oppure cioè tutte e due le cose hai messo cosa hai messo allora 8 volte mi battere sei volte su dieci ok e forza easy bello che cos'è box vipi hai messo bello santa sai più no non stare fermo perché c'è così ha avuto tempo di mirarti capito ok aspetta un attimo presenti allora entrano parti perché no non posso così parti pure con quello che con questo poi c'è ne trovi quindi sei tu il capo oppure no non sono il capo oh bella bravo bello ok aspetto che ti fai il pesciolino cazzo non c'ho mazzo cazzo bello fra me hai preso nell'angolino adesso mi dai le tue cure adesso mi dai le tue cure e si però fermati vai su sciarrono si è uscito condividi gioco o qualcos'altro non mi ricordo però sta scelto così e vedi che ti fa la live o su twitch o su pensi risci titolo descrizione se rifiuti non te lo farò però entro nel quarto c'è l'estero nel quarto possiamo grazie cazzo cazzo c'è una mina di merda cifra dici cerchi qualcuno per il team cosa vanno anch'io ora stai facendo con il problema che molti problema che io ho appena acceso quindi allora in questo preciso momento non te lo so dire ora cazzo mai dopo se vuoi c'è la fai pure in pubblica la via perché io mostro un pochino che mi devo ancora riscaldare no no ma non sto dicendo c'è sto dicendo 7 che a questo quale molto in pubblica poca troia allora in pubblica devi fare se stai solo tu devi fare in cioè devi fare otto kill solo verso scoppia si poi se vuoi pure una mia mano devi farne 10 cazzo provero cazzo ma perché mi metto sempre solini della merda mannaccio sto gioco e fa cagare alla minchia non chiamato al film no non sei mutato sta parlando però è solo che sta concentrando va bene ma come cazzo no fra non sei umano tu non sei umano oppure sono io persona dipende dai casi è un cazzo umano di merda a faccio ragazzo fra quando cazzo poca troia perché non meritato sto gioco della minchia poca cazzo 5 a 1 in chiar mi mette il coso qua il legno perché cazzo mi mette legno sto tumore il gioco ma perché cazzo ci ho provato però si rende non ci trovare la spero dopo dopo ti invito fra adesso tenían ok 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 si fa no pazzo pazzo però non devi dire più niente per favore perché già io mi sto in griffondo di me il gioco dell'avviata ah no proprio non devi dire niente che senti me e porca ma gioco di merda mamma ne fa cagare la mente e che cazzo ci gioca ancora porca troia ma che cazzo fa e guarda mannaccio io smetto di fare tutto perché è quello che entra e quell'altro che parla lasciato fatto due valutando è qua no aspetta fra i provini grazie a tutti grazie a tutti